Lo scorso 30 gennaio avevano messo a segno una rapina da 300.000 euro in pieno centro a Mota di Livenza. Eccoli i tre banditi in alcuni fotogrammi ripresi dalle telecamere di sorveglianza, mentre effettuano i sopralluoghi nei pressi della gioielleria Michieletto di Via Argine Destro, prima di fare irruzione. La titolare venne legata, i tre subito dopo si diedero alla fuga. Sulle loro tracce fin da subito però c'erano i carabinieri, che nel giro di sole due settimane sono riusciti a risolvere il caso. In meno di due settimane siamo riusciti, grazie alla preziosissima collaborazione dei cittadini, a chiudere il cerchio e quindi a trarre in arresto i tre componenti della banda. L'uomo che faceva il palo, un 54enne di Oderzo, in particolare era stato notato da alcuni cittadini che hanno prontamente collaborato con i militari. Gli altri due complici, coloro che entrarono nella gioielleria Michieletto, sono un 39enne di Oderzo e un 54enne di Chiarano. Quest'ultimo nel 1990 uccise una guardia giurata nel Pordenonese. Questa invece è la pistola giocattolo trovata nella loro disponibilità. Le loro generalità non sono state ancora rese note dal momento, che si ritiene concretamente possano essere responsabili di altri crimini simili. Parte della cospicua refurtiva è stata rinvenuta dai carabinieri, molte pietre recuperate sono state divelte dai gioielli in cui erano incastonate, probabilmente già fuse le componenti in oro. Si tratta di un terzetto di criminali navigati, roccambolesco in particolare, è stato l'arresto del cosiddetto palo avvenuto all'aeroporto di Tessera, mentre questi tentavano la fuga in Brasile attraverso il Portogallo. Abbiamo fermato il primo dei tre nel momento in cui si stava imbarcando per un volo diretto in Sud America, dove aveva preso contatti con delle persone verso le quali avrebbe dovuto smerciare parte della roba, oggetto della rapina.